Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 15 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Atomica targata Acquario. L'atomica, spauracchio di molti, oggi non sta nascosta nei bunker, se ne va in giro impunita in auto, in metropolitana, al supermercato, in azienda. Sì, perché l'atomica siete voi. Pacifismo zero dai vostri paraggi quest'oggi, con venere ininfluente in dodicesima casa e giove in quadratura, raggiunta per giunta nel pomeriggio dalla bianca signora, che subito si scontra coi vostri infiammabili inquilini, Marte e Plutone abbracciati in una strettissima congiunzione, simile a una colonna di fuoco. Magari sarà solo un fuoco dello spirito, la forza delle vostre convinzioni, la reazione sdegnata a qualche provocazione di natura sentimentale o politica. Di fatto queste temperature da fusione si avvertono in famiglia, tra vicini e nel giro delle amicizie. Furbo chi non vi dà corda rischiando con voi discussioni pericolose, meglio lasciarvi a cuocere nel vostro piccantissimo brodo, sempre che il fuoco troppo alto sotto la pentola non l'abbia già fatto evaporare. La coppia è attraversata da dubbi e incertezze sul futuro, motivate soprattutto dalla perenne indecisione dei partner. Solo i partner più ostinati e costanti riusciranno a districarsi dalle maglie dell'indecisione e portare a termine i progetti di coppia. Momento di estrema confusione per i single che resteranno scoraggiati e avviliti. Portate avanti le vostre scelte fregandovene dei giudizi altrui. I pettegoli non vanno mai ascoltati. Cercate di chiarivi con qualcuno che aspetta da voi i dovuti chiarimenti, in fondo conviene a entrambi. Non lanciatevi in una storia che potrebbe causarvi solo disagi. Riflettete. Oggi non comprate nulla da venditori ambulanti o che non conoscete a fondo, potrebbero rifilarvi qualche prodotto non buono o una piccola truffa. Posta in arrivo. Messaggi importanti per i nati di venerdì. Prospettive interessanti per chi vive un amore fuori della norma o complicato. Meno, molto meno, per chi vive una storia clandestina o extra. Alcune decisioni che dovreste prendere possono influire sul vostro personale futuro, prendetevi il tempo necessario per organizzare le idee e le vostre cose in funzione della massima libertà di scelta. Sarebbe meglio guardare da un'angolazione diversa la vita di questi giorni, mettete in conto che spesso ciò che vi penalizza è guardare dallo stesso punto di vista le cose nuove. Ottimo giorno per portare a termine e risolvere questioni in sospeso, concretizzare progetti che si trascinavano a lungo. Entra oggi nel vostro segno il vibrante Marte e si congiunge al magmatico Plutone. Il progetto dei moti celesti parteggia completamente per voi. Dalla vostra, inoltre oggi avete pianeti del calibro del Sole e Nettuno, Mercurio e Venere. Animati dalle migliori intenzioni, vi godete una giornata equilibrata e serena, la famiglia vi corrisponde con amabile gentilezza. La luna retina vi fa correre, sgobbare, mettervi insomma in primo piano, sul lavoro però, mentre il cuore con Venere imbronciata in dodicesima casa non fa una piega. Quanto a San Valentino chi se ne frega, contestate le tradizioni, soprattutto quelle imperniate esclusivamente sul commercio, figurarsi stasera con la bianca signora passata nel frattempo in toro in quadratura ai vostri due battaglieri inquilini Plutone rivoluzionario e Marte battagliero appiccicati in una strettissima congiunzione. Amore vulcanico, se non è sesso non può essere altro che guerra. Amore ed eros. Argomento tabù, meglio festeggiare San Faustino domani, lasciando perdere Valentino con i suoi stucchevoli cuoricini e le sue rose. Che a voi non dicono nulla, preferite le violette o le gherite. Tensioni con tutti, familiari, vicini e soprattutto con voi stessi per esservi lasciati coinvolgere in situazioni che non solo non vi piacciono, ma vi vanno così strette da farvi stare quasi male. Beghe familiari o con i vicini, quanto al partner, sempre che ne abbiate uno, stato fisso, oggi farete finta di nulla. Meglio ancora per i cuori solitari, esenti dalla farsa del 14 febbraio con annessi e connessi. Vediamo quali sono i segni che vi fanno bruciare di passione più di altri in questa giornata. Oggi si celebra San Valentino e a voi il più delle volte piace passarla in compagnia del vostro amore, festeggiando questo momento insieme e come si conviene. Senz'altro il sensuale e coinvolgente toro che vi cattura come pochi altri. Poi anche il contraltare dialettico dell'acquario, il leone, capace di stregarvi per la sua spontaneità e la sua autenticità. Quindi per la forza prorompente dell'eros e la capacità di farvi immergere in emozioni indimenticabili, il segno dello scorpione. A tutti questi segni voi potete donare equilibrio e contemperare con la razionalità i loro istinti. Lavoro e denaro Creatività sotto i tacchi Nelle faccende domestiche oggi combinate un sacco di guai, quanto a esami, trattative e contatti col pubblico, la prendete con troppa foga, risultando subito antipatici. Inutile lamentarvi della vostra sfortuna, siete voi i primi a tirarvi la zappa sui piedi. Attenti a quel che dite e soprattutto a quel che fate, a un meeting, sul lavoro, al volante siete pericolosi soprattutto per voi stessi. Benessere Ma quale benessere? Tra mal di testa, stati infiammatori, svarioni ormonali e una faccia aggrottata, perfetta per recitare il ruolo dell'assassino in qualche film. Non si può certo affermare che siate in forma. Se mangiate con gusto apparente è solo per nervosismo, garantito che la cena vi si bloccherà sullo stomaco, scatenando tra l'altro un feroce mal di testa. A questo punto salutate Valentino e Valentina e andatevene a letto presto mettendo sul comodino un tazzone di camomilla, quest'anno sarà il vostro champagne. Per lei, San Valentino un corno, a voi le feste commerciali danno sui nervi e se lui vi porta alle rose sapendo che siete allergiche gliele schiacciate sotto i piedi, peggio ancora col cioccolato. Un affronto insostenibile per una donna sempre a dieta. Per lui, la tensione nervosa vi sta divorando, due soluzioni, un paio di ore con gli attrezzi in palestra, oppure una lunga doccia fredda. Colore delle emozioni, rosso fuoco. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 4, finanze, 5, benessere, 4. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.